ciao bentrovati sono Angela lei e Sara e oggi siamo qui con Francesco Morbidelli che sono di Mondolfo nato il 74 1960 e momentaneamente sono libero in tutti i sensi sono andato avanti a costruire pian piano la mia vita per avere questa libertà quello che vorrebbero molti anzi tutti io c'è un po che ci lavoro perché 64 anni vabbè ci avrò questo percorso che devo fare non so una serie di cose che mi hanno portato a questo cerco di vivere in pace già non è poco Francesco chi sei raccontaci di te com'è cominciato come ho cominciato a dedicarmi all'arte dici avere un amore per l'arte è in me c'è ne ho cominciato ce l'ho sempre avuto già in famiglia mio padre che c'è la bottega da falegname che lì sono nato tra la segatura dico io nel senso che la materia legno il creare e costruire niente da un progetto vedere un lavoro finito è una roba bella fatta con le tue mani con il tuo pensiero di meglio farla così è meglio prenderla così o cosa legno c'è la vena legno è sempre vivo il legno è legno è vita cominciato così pian piano essere ribelle della famiglia avere sempre l'idea in più di mandare lascia perdere lascia perdere invece no io le mie idee adesso che sono libero da tutte queste condizioni familiari o sociali faccio quello che voglio e mi lascio andare e creo qualcosa qualsiasi cosa che mi viene in mente il momento giusto con voglia senza pensare a niente avevi proprio la concentrazione massima di quello che vuoi fare lo fai senza condizioni perché voglia di farli perché t'appaga perché te da pace sei lì sei dentro di te non pensi niente non ho un discorso egoistico ma penso per me il mio benessere stare bene che è una cosa fondamentale e tutto questo mi dà una serenità e un benessere fisico anche per creare creo quando voglio e faccio quello che voglio adesso cerco di dare un mio messaggio così di stupore e di curiosità e di dici ma come ci hai pensato ecco tutto lì francesco in questa tua vita così libera cosa stai facendo ora di di bello di bello adesso sto facendo teatro st'inverno ho fatto un corso a marzocca e con centro sperimentale marche l'avevo fatto già tempo passato con alla stacciola per sette anni mi sono ripreso dopo due anni tre anni di fermo adesso sono un bel gruppo lavoro ricchio quando mi va e faccio cosa mi va non faccio più dei lavori scomodi perché non mi va più e vivo con il poco che ho e mi limito a secondi all'incasso che ho ma con serenità tranquillo la speranza c'è sempre sto bene c'è un figlio fantastico francesco se si pensa a te si pensa alla valle dei tuffi come è partito questo progetto? in realtà non è un progetto è stata una scoperta per me una palestra che sono andato giù a provare ma ne fai uno ne fai uno poi vai giù ti trovi bene il luogo è magico c'è tutta un'atmosfera e poi da uno passa due passa tre se hai subito un attrezzino per poter lavorare qualcosa fai perché per me è una liberazione progetti per il futuro? futuro è incerto sempre di conseguenza sì delle proiezioni dei desideri per il futuro ci sono sempre perché tanto una proiezione te la fai ma quello è un collegarsi con l'universo e chiedere quello che tu hai bisogno o quello che ti può fare sta bene poi cerchi di vivere tranquillo la giornata e poi ti ci porta lui siamo figli dell'universo non meno degli alberi e delle stelle e che ti sia chiaro no e non vi è dubbio l'universo ti si sta schiudendo come dovrebbe mi puoi parlare delle tue opere per esempio com'è che si chiama lei? la venere apocalittica l'ho creata con una scultura che avevo fatto in legno non mi piaceva e l'ho trasformata l'ho trasformata mettendola sopra un mondo pieno di catrame pieno di silinghe messo male che siamo un po' messi male e lei sta guardando in alto e dall'alto gli cade in testa un vettore che è una macchina che è della tecnologia troppa roba in cielo e sto mondo che gli cade in testa con pieno di schifezze quella è del 2005 vabbè ci avrò avuto una premonizione dobbiamo essere messi proprio male se ci vergogniamo di stare bene ma forse è per questo che io mi sento affranto forse è per questo che non vado più a pescare perché ho paura che volendo volendo posso stare bene potete stare bene possiamo stare bene